salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi voglio parlare di un problema che mi è stato segnalato da tanti che hanno un Mavic Mini questo soprattutto dopo l'ultimo aggiornamento cioè che il Mavic Mini spesso si disconnette ma non parliamo di disconnessioni quelle perché si vanno a distanza esagerata e quindi si disconnette ed è normale o le disconnessioni quando siamo in una zona molto urbana quindi con un sacco di reti wifi che vanno a farci un sacco di interferenze quello ci sta stiamo parlando proprio di disconnessioni senza motivo e questo è successo a tanti e sta succedendo a tanti ed è un problema facilissimo da risolvere o meglio nella maggior parte dei casi si risolve con questa procedura che adesso vi faccio vedere ed è semplicissima allora la procedura è questa ed è super semplice innanzitutto andiamo nel sito DJI scarichiamo l'applicazione DJI Assistant 2 per Mavic poi vi lascio il link in descrizione per scaricarla quindi è disponibile sia per Mac che per Windows la scaricate dopodiché l'andate ad installare una volta installata andate ad aprirla quindi una volta aperta non dovete fare altro che andare a accendere il Mavic Mini andate a collegare il cavetto USB dietro alla porta del Mavic Mini mi raccomando ragazzi collegate la micro USB dietro al drone subito dopo averlo avviato nel senso che schiacciate il pulsantino avviate il drone come il drone inizia avviarsi collegate la micro USB perché se lo fate a fine della procedura di avvio del drone il drone verrà rilevato solo come memoria esterna se invece la collegate prima della procedura appunto di avvio del drone verrà rilevato dal DJI Assistant e questa è una cosa importante che sono magari diventate matti perché non ve lo rileva continuate a staccare staccare la spinetta perché non viene rilevato e ve lo rileva solo come memoria di massa mentre se la collegate subito appena avviate il drone viene rilevato subito come ovviamente Mavic Mini dal DJI Assistant una volta collegato vedete che vi esce l'iconna Mavic Mini all'interno dell'applicazione basterà cliccarci sopra quindi a questo punto vedete vi trovate tutte le informazioni del vostro Mavic Mini quindi vedete che qua io ho upgrade nel caso non ci sia upgrade avreste refresh cioè la reinstallazione del firmware che già avete quindi il mio consiglio è fate refresh o upgrade in base a quello che vi trovate disponibile una volta fatto quello si riavvierà il Mavic Mini rinstallerà tutto e a quel punto è il problema di disconnessioni senza motivo diciamo vero o valido per cui si debba disconnettere nella maggior parte dei casi il difetto sparisce quindi ragazzi chi di voi ha questo problema col Mavic Mini faccia questa procedura poi provi e mi faccia sapere nei commenti se ha risolto o meno il problema di disconnessioni senza motivo ovvio che se andate a due chilometri si disconnette ragazzi ci sta eh o se andate in una zona con un sacco di interferenze per un 8000 Wifi è probabile che succeda però se lo fa in zone tranquille con una distanza di 50 metri vi si disconnette no quello non è assolutamente normale quindi fate questa procedura quindi o upgrade o refresh in base a quello che avete disponibile e una volta fatto quello dovreste avere risolto ogni problema quindi ragazzi sperando di esservi stato d'aiuto e sperando che questo video vi aiuti a risolvere il vostro problema col Mavic Mini perché comunque è un problema fastidioso che tanti hanno riscontrato e spero che in questa procedura riusciate a risolverlo quindi ragazzi se questo video vi è stato d'aiuto e vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale Telegram Offerte se lo avete ancora fatto e se vi va ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi in alcun video un volo, un'accensione, un test, un toro, una novità ciao ciao